Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, ma soprattutto buona Santa Chiara a tutte le Chiare del mondo! Oggi Santa Chiara... Uori! Lo sai che io sono patita per l'onomastico? Quindi, buona Santa Chiara a me, buona Santa Chiara a te, buona Santa Chiara a tutti voi che guardate questo video, mi chiamate Chiara anche le amiche, le mamme, eccetera. Comunque, chi ha visto il primo video di questa serie, di quest'anno, sa che avevo fatto un preambolo, ovvero che adesso ho due fissazioni per le sorprese, il pettinino della Ferragni e la calamita della Zaini. Quindi non poteva mancare anche quest'anno un nuovo delle miglia! Ci ha provato anche quest'anno, non le ho riuscite a regare! Ho visto che la sua calamita non me la dà, ho preso un uovo delle miglia, eccolo qua! E cosa ti aspetti? La calamita! Perchè secondo me questo tipo, c'erano le parti diverse quelli dell'anno scorso, non avevano questo bel fiocco qui davanti? Sì sì, magari è una calamita, magari più bella della mia! Eh, meglio ancora! Se trovo una calamita a forma di tavoletta di cioccolato più bella della tua, meglio ancora mi accorgerò! A forma di uovo di cioccolato! No, io la voglio a forma di tavoletta! Ah sì, io la voglio a forma di tavoletta! Sì, io la voglio a forma di tavoletta! A meno che un uovo di cioccolato non sia 3D! Allora Zaini, un appello! Fatevi le calamite! Le forno dolcette alle calamite! Fate le calamite! Le calamite sono più belle delle sacca poste, degli stampini dei cucchiaini! Allora, non so se abbiamo trovato gli stampini dei cucchiaini tipo 2 volte! Beh, c'è a chi piace! Sì, ho capito, ma sono più belle le calamite! Allora, invece di tu! Ah, è per te! Allora, fatevi le calamite, ci sentite su! Qua dentro alla bonbon, trova le calamite, io sono felice, le compro tutte io! Va bene, allora, prima di cominciare però... Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati! Ogni volta che esce un uovo, io e soprattutto, mi raccomando, lasciate un like e un commento di supporto perché... Perché? Perché se non lo troverò io... Ha bisogno di supporto! Io tra l'altro oggi mi sono messa la maglietta di Star Wars perché adesso con la mia forza Jedi... Vedrai cosa c'è dentro! No, cerco di trasformare la sorpresa in una calamita! Quindi... E i Jedi facevano così? No, però il mio potere Jedi è così! Ah, così! Trasformo le cose! Il mio potere Jedi è di trasformare le campanella! Guarda che bella carta! Ci può essere dentro solo una calamita! Una bellissima calamita! Il fiocco! Sì, guarda che bello! Il fiocco! Dai, apriamo il fiocco! No! Voglio vedere come ho preso il fiocco! No, no! Il fiocco lo voglio tenere io! Non mi credo che lo è, lo devo ancora aprire! Ma se lo apriamo poi non c'è più! Questo qua si deve aprire! Sì, non c'è più! Questo si apre! Comunque è legato molto bene! C'è sia la corda che... Sì, infatti tra un po' mi sa che mi farò male! Che uno spago fil di ferro! Ma scusa! Hanno paura che l'uovo scappi! Ah, ma vuoi vedere che questo è quello del fiocco! Dici? Sì! Eh, infatti... Guarda! Ecco qui! È attaccato il fiocco! Guarda... No! Sono un uomo! Vero, un bando volerum! Dai! Vabbè, sono un uomo anche tu! Non ci sta! No, come braccialetto! Vabbè, ciao! È una vita sua! Andiamo! Ha visto qua il fondente cacao 70%! Ecco com'è fuoco! È un buco! Possiamo guardare dentro! Cosa c'è dentro? È tutto nero! Ah, un rumore metallico! Sì, ma mi sembra un rumore di qualcosa di troppo piccolo, però sono una calamita! Dunque, l'osore del cioccolato fondente è sicuramente buonissimo! Pugnante del latte! Allora... Pronti? 3, 2, 1... Chiudi gli occhi! Non sono più pure adesso che... Che ha da aprire! Chiudi gli occhi! Ok, guarda... Devo guardare! Forza dai pugni tu! L'ho aperto! Sì! Non guardare! Non guardo! No, adesso guarda! Mettilo nella mano! Guarda poi il regalo! E poi guarda la telecamera subito! Aspetta, te lo giro dalla parte... È un rumore di uno! Hai capito? Sì! Guarda il regalo e poi alzi gli occhi sulla telecamera! È una calamita! Non è una calamita! Però ci assomigliava! Quando l'hai sentito nella mano cosa ne hai più pensato? È una calamita! Invece no! Ma scusa ma da quando in quale la cioccolata dell'Azzari si trova un brucioletto? Cioè ma da ragazzi... No ma io faccio reclamo! Io faccio reclamo! Il cioccolato è buono! Un bel fondente! Brio Collection, certificato di garanzia, lavorazione artigianale, questo articolo è stato prodotto e smaltato a mano in Italia. Hazent Nickel, made in Italy. Brio, Pieve, Man, Milano. Senza nicchie! Contenta! E anche quest'anno calamita nada! Magari un altro uovo della Tessana, non so cosa ne stai. No, perché io li ho visti, non ne hai più. Compensa un altro uovo della Ferragni. Ma non devi spoilerare! No, non devo dirlo! Tanto ormai... Ma non devi spoilerare. Tra l'altro c'è, sta stellina rosa, sembra quasi la stellina della Ferragni della carta. Ma dimmi, cosa c'entra con la zaini questa? Cosa c'entra? Io volevo la calamita ragazzi, la calamita! La calamita! Ma prendi un pezzo di cioccolato amaro. Amaro come il regalo che hai trovato. Non ci credo. Ma io la soppresa! È buono! Ci facciamo la torta, eh? Che torta? È buono! Niente, io non mi capacito di questa sfortuna che mi perseguito. Molto pezzettino! No! Non la faccio più la porco estiva. Non è vero! Scherzetto! Cioè è bello, eh? Però... Non so... Un po' male! Lo metti. Ma insomma è bello o no? È bello! Però io volevo... Io volevo... Non è che si può avere sempre tutto, eh? Io... Già, Eimee! Facciamo il cambio! Io ti do questo bellissimo braccialetto con la stilina. Sì, ci vanno in giro comunque lì. Lo dai a tua mamma? Lo do a mia mamma, sì. È un regalo per la mamma? Certo. Guarda, è certificato Made in Italy! Daglielo la tua! Come si chiude sto cove? Dove mi infilare la pallina nel buco? Là! È troppo molle? No, no, adesso, chiude così. Ecco qui, il regalino. L'abbiamo fatto un po' vedere, un po'. Sì. Ci vedete? No. Non vi perdete niente. No! Cioè, io davvero, non lo so. Sono perseguitato dalla sfortuna. Ah, bene. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un like, commentate le sue facce quando mangi il cioccolato fondente. e quando trovo le sorprese brutte. Poi c'è la campanella. Io non me ne ricordo mai tutte le cose in fila. Bisogna lasciare un like. Le l'ho già detto, dai. Al canale, attivare la campanella per non perdersi i nuovi video che escono e anche lasciare un commentino adesso. Un commentino di sostegno a lei e anche a me. Perché tu? Comunque, cioè, io, crede che la forza Jedi ha fallito. Andiamo bene. Però è senza nickel. Sai che tu sei allergica al nickel? Io sono allergica a tutte quelle cose che non sono acciaio o argento o oro bianco. Quindi questo qua non lo potrò comunque tenere. No. No. Perché non è d'acciaio? Cazzo, io ci ho provato. Vabbè ragazzi, ci vediamo domani. Santa Chiava non ha portato fortuna, peccato. Ciao. La vita è sempre mia. No, poi me la darai. No. Sì. Mai. Sì, me la darai. Mi porto la morte. No, me la devi dare. Dai, però non me la regali. No, poi me la darai. 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 Grazie a tutti.